Ciao bambini, visto che in questo momento non è possibile visitare il Museo Giuliano Galli di San Casciano, ho pensato di farvi divertire con una piccola attività ispirata proprio a un'opera del museo. L'opera che ho scelto per voi è La Madonna con il Bambino, realizzata dal pittore Ceni di Francesco. È un'opera molto antica, risale al 1300 e è un dipinto realizzato su tavola di legno. Si trova nella sezione dedicata all'arte sacra e in questa sala del museo sono presenti varie opere che rappresentano lo stesso soggetto, ma io ho scelto questa proprio per il modo in cui il pittore è riuscito a rappresentare attraverso piccoli sguardi e gesti semplicemente l'amore e l'affetto che c'è tra una mamma e il suo bambino, andando un po' oltre l'aspetto religioso. Un'altra cosa molto particolare dell'opera è lo sfondo. Maria è seduta su un trono e il pittore Ceni di Francesco ha pensato di arricchire ancora di più la sua opera, imitando, proprio in questa parte del dipinto, un pezzo di stoffa decorato con piccoli fiori e pappagallini. Ho preparato anche un ingrandimento proprio per farveli vedere. Questa parte scura che vedete qua è un dettaglio del mantello di Maria e nel resto dell'immagine ci sono le decorazioni di cui vi parlavo. Quindi si vedono i piccoli fiori e due dei tanti pappagalli che ci sono appunto sullo sfondo. I pappagalli hanno le ali, il collarino e l'occhio con la cresta nero, mentre il resto del corpo, il becco, le zampe e la coda sono dorate. Quindi è proprio partendo da questo dettaglio che vorrei farvi fare questa attività creativa. Allora, se andate nella pagina del comune dedicata a questo tutorial, trovate il disegno del pappagallo che ho realizzato per voi e li potrete scaricarla e stamparla. Una volta stampata poi potete iniziare a colorarla. Allora, i materiali che ci servono sono delle matite colorate, la colla, le forbici, i lapis e dei cartoncini colorati nei colori che preferite. Allora, una prima cosa da fare dobbiamo colorare con le matite il disegno del pappagallo. Potete scegliere voi se farlo tutto colorato oppure imitare il pittore Ceni di Francesco e scegliere due colori. Quindi un colore per l'occhio, la cresta, il collarino e le ali e un altro colore per il resto del del pappagallo. Allora, per velocizzare un po' il procedimento mi sono portata un po' avanti e ho già realizzato il ho già colorato il pappagallo. Come vedete l'ho fatto tutto colorato. Una volta che anche voi avrete colorato il vostro pappagallo potete iniziare a realizzare le piume con il cartoncino. Allora, vi faccio vedere come farne una. Allora, scegliete il colore che vi piace. Con il lapis tracciate la sagoma della piume, che più o meno ha la forma di una foglia. Una volta disegnata potete ritagliarla. Eccola qua. Questa è la piuma tagliata. A questo punto la piegate a metà, così. eccola qua. Una volta piegata nella parte alta dobbiamo fare due taglietti con le forbici. Mi raccomando di non arrivare fino in fondo perché altrimenti la tagliamo tutta. Quindi si fanno questi due taglietti e una volta fatti si può riaprire la nostra piuma. Eccola qua. Allora, mi raccomando di non aprirla completamente così, ma di lasciarla un pochino chiusa in modo da creargli una forma. Con questo procedimento potrete farne tante altre. Vi consiglio di realizzarne alcune più grandi, altre più piccole, in base anche a dove verranno posizionate. Per esempio, potrebbero essere attaccate nella parte delle ali, nella coda e nella cresta. vi faccio vedere come intanto si possono attaccate. Io ne ho già preparate altre. magari prima di incollarle potete fare una prova per vedere un po' come creare la vostra composizione. Quando poi avrete trovato il modo che più vi piace, potete incollarle. Allora, basta mettere un pochino di colla nella parte finale della piuma, proprio perché lo scopo è quello di lasciarle quasi uscire un po' fuori dal foglio, per creare più volume. Quindi basta che mettete giusto un po' di colla nel punto dove volete incollarla. Quindi in questo modo si dovrebbe anche vedere. A questo punto ne possiamo attaccare un'altra qui vicino. Vi consiglio di metterle anche un po' sovrapposte, per creare più movimento alle piume. a questo punto ne incollo due anche nella coda. sempre ponendo i colori... ecco. E anche qua sta prendendo un po' forma. Anche in questo caso mi sono portata avanti e ne ho già uno finito. Eccolo qua. Come vedete ho messo quattro piume nelle ali, tre piccoline nella cresta e sei nella coda. Siccome avevo fatto il mio uccellino tutto colorato, ho pensato di fare colorate anche le piume. Ovviamente siete liberi anche di farle di un unico colore. Se volete potete anche arricchire il disegno con perline, nastrini, brillantini, quello che avete in casa. Mi raccomando però in quel caso vi consiglio di utilizzare una colla Vinavil che è un po' più resistente rispetto alla stick per incollare questo tipo di materiali. Spero che questa attività vi sia piaciuta. Liberate la fantasia e buon divertimento. Ciao! Ciao! Grazie a tutti